Rimane ancora qualche giorno a disposizione per presentare le istanze, avere così la possibilità di ottenere un contributo per l'apertura di un'attività, accedendo all'iniziativa in vesto al centro del Comune Nisseno nata nell'ambito del progetto di riqualificazione del centro storico. L'obiettivo è quello di incentivare, si precisa nell'avviso, l'apertura a caltanissetta di attività commerciali, artigianali, culturali e di somministrazione alimenti e bevande, al fine preferibilmente dello svolgimento di attività di diretta utilità per i turisti e visitatori della città. Verranno accolte le domande sino all'esaurimento dell'importo totale di 80.000 euro, la cifra messa a disposizione per l'iniziativa. I beneficiari potranno aggiudicarsi dunque un contributo economico a fondo perduto, coprendo fino al 60% delle spese sostenute e comunque non si potrà superare la cifra di 8.000 euro per richiesta. Dopo un'istruttoria formale per valutare il rispetto dei criteri di ammissibilità delle istanze presentate, le stesse verranno attribuite dei punteggi, secondo dei precisi criteri indicati nell'avviso e successivamente verrà stilata una graduatoria. Si prevedono anche degli obblighi per i beneficiari, come ad esempio quello di avviare l'attività di impresa entro 5 mesi a partire dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo. Abbiamo tempo fino al 31 maggio per poter presentare le istanze, quindi questo è un mio appello accorato verso quanti vogliono investire al centro aprendo un'attività. Per noi significa ripopolare anche attraverso queste azioni il nostro amato centro storico con un contributo che ha un tetto massimo di 8.000 euro. È aperto a chiunque, ci sono ovviamente dei criteri da dover rispettare, ma tutti questi dettagli tecnici l'ufficio tecnico sarà in grado di fornirli. Quindi quando si vuole si può scendere direttamente a San Francesco presso il Suap e ci sarà il personale che potrà dare le varie indicazioni. Ricordiamo che questo è un contributo che vuole essere destinato a quanti già avevano in mente di dover aprire un'attività o di volere incrementare una propria attività nel proprio spazio, quindi aprendo le saraginesche. L'obiettivo è proprio quello, quello di ripopolare, di rianimare, alzare sempre di più le saraginesche. Quindi quello che è diciamo nelle facoltà del Comune e nelle forze economiche che il Comune può spendere le sta mettendo tutte in campo e tutte a disposizione di quanti hanno voglia di poter investire al centro. E a quanti rispondono che comunque gli affitti nel centro storico sono molto alto. Noi come Giunta abbiamo sensibilizzato anche le associazioni di categoria affinché si trovi anche una quadra su questo argomento. È giusto abbassare gli affitti in centro storico per poterlo rivalutare. Quindi riteniamo che ciascuno debba fare la propria parte. Ovviamente ci sono anche degli ingentivi da questo punto di vista, quindi con delle agevolazioni anche fiscali sotto questo aspetto. Grazie. 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 Grazie.